Il degrado urbano in tutte le sue forme, la situazione di Piazza Pietri segnalata dai nostri telespettatori, palme abbattute dal punteruolo rosso che si espande a macchia d'olio, l'ex cinema e la statua dedicata a Giuseppe Pietri in stato di abbandono. Vento e mare, forza 8, fermano i traghetti, elba isolata, navi ferme in banchina e super lavoro per vigili del fuoco e polizia stradale per rimuovere gli alberi caduti sulle strade. Partito regolarmente per Firenze, l'aereo Silver Air. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 136 km orari. Fissato un vertice con l'Università di Firenze per le voragini di Rio, il sindaco De Santi chiede conto dello stato degli studi sulla zona per conoscere la situazione emersa fino ad ora e informare i cittadini. La conclusione, dice il sindaco, ci consentirà di indicare un'ipotesi di nuova viabilità. La scuola di Marciana è stata accorpata con quella di campo. La fusione delle scuole dell'elba occidentale è stata decisa da una delibera regionale, nonostante proteste e mobilitazione dei sindaci bulgaresi e ciumei e dei genitori. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Oggi per la rubrica prima pagina parliamo del degrado che riguarda Piazza Pietri. Una situazione che ci hanno segnalato i nostri telespettatori. Abbiamo ripreso le palme abbattute, lo stato di degrado e di abbandono in cui si trova la stessa statua di Giuseppe Pietri che si trova nella piazzetta, lo stato dell'ex cinema. Ne abbiamo chiesto conto anche al sindaco di Portoferraio Mario Ferrari. La prima pagina del telegiornale di Terelba ci porta oggi in Piazza Pietri. Il motivo è duplice ed è in entrambi i casi alle nostre spalle. Il motivo è purtroppo una frase ricorrente quando si parla di ambiti urbani e di problemi che il tempo mette di fronte alle amministrazioni comunali che sono chiamate a progettare lo sviluppo, la conservazione e la cura dei nostri paesi, delle nostre città. La parola tristissima è degrado. Le forme di degrado di cui vi parleremo oggi sono due. Una purtroppo è una forma di degrado diretta dovuta a un fattore accidentale che sta diventando travolgente. Vedete questo bicchiere che ho in mano? Al suo interno c'è un esemplare di punteruolo rosso. Siamo rimasti sconcertati sia per le dimensioni di questo insetto che ci è stato portato in redazione da un nostro telespettatore sia dal fatto che, ve ne parlo sperando di non turbare nessuno, questo piccolo animale è una femmina piena di uova. Questo significa che questo insetto si sta diffondendo in maniera incredibile a Portoferraio e probabilmente con il vento di queste giornate invernali, con le uova che passano da una mano all'altra, da una macchina all'altra, da un cassone di un apino all'altro, probabilmente molto presto si diffonderà in tutta l'elba. Quello che è alle nostre spalle è il segno del degrado e nello stesso tempo della impossibilità della pubblica amministrazione di intervenire per tempo compiutamente con la prevenzione, ma a questo punto possiamo dire neanche con la sistemazione a posteriori, perché la palma che sta alle nostre spalle è un esempio di degrado legato alla diffusione tremenda del punteruolo rosso. Andremo a chiedere a chi di dovere conto della situazione attuale, ma a questo dobbiamo aggiungere un altro tipo di valutazione, quella che sta alle nostre spalle. È un momento di riflessione che giriamo ai nostri telespettatori e anche agli amministratori pubblici che ci ascoltano. L'edificio di quello che era una volta uno dei simboli più belli della prosperità della Portoferraio del XX secolo, il Cinema Pietri, abbandonato da anni, crediamo a questo punto da decenni, nella impossibilità di un intervento di riurbanizzazione che lo possa riportare a un uso e a una decenza consoni con i nostri tempi. Cosa che è avvenuta invece soltanto qualche decina di metri di più in là, nel palazzo Ex-Acit, che fortunatamente adesso sta a portare alla nostra cittadinanza, a tutta l'Elba e ai suoi ospiti, uno degli esempi più belli di riurbanizzazione, in attesa ovviamente di poterlo presentare ufficialmente e di potervi raccontare come è stato ripristinato, in quale modo e soprattutto con quali funzioni. Chiaramente questa è una domanda che giriamo ai nostri governanti, a chi amministra la città, a chi amministra l'isola e non possiamo fare a meno di andare ancora qualche metro più in là e guardare l'incuria che circonda quello che è uno dei monumenti più importanti, dedicati a una delle persone che hanno resa grande l'isola e hanno reso conosciuta, l'isola d'Elba in passato, il maestro Giuseppe Pietri. Purtroppo le immagini che vi mostriamo parlano da sole, in attesa che si possa intervenire su questo che purtroppo, insieme a quello dovuto alla presenza del punterolo rosso, sempre più devastante, è un tremendo esempio di degrado urbano. Sindaco Mario Ferrari sa di cosa stiamo parlando, ha ascoltato le nostre parole, abbiamo usato una parola di cui si fa spesso cattivo uso, comunque si abusa molto spesso appunto, degrado. In questo caso però le motivazioni di questo stato di cose sono tante. Non è una disattenzione dell'amministrazione, l'amministrazione ne è responsabile dell'estendersi di questo degrado, ma ne è responsabile come vittima, come lo sono anche i privati. L'amministrazione l'anno scorso ha fatto il possibile, ha tagliato oltre 20 palme. Il punterolo rosso è più veloce delle nostre capacità di bilancio a sopperire a questo problema. Purtroppo i costi sono quelli che sono, alla fine ci sono i legacci del bilancio che non ci fanno essere sufficientemente al passo con l'estensione di questo degrado che purtroppo sta interessando, oltre che il Comune Portoferraio e tanti altri comuni. Cioè abbattere una palma sana costa 400 euro mediamente, abbattere una palma ammalata ci vogliono circa 2.000 euro. Quindi a qualcuno è venuto spontaneo fare questa considerazione. Abbattiamole finché sono sane, così ne abbattiamo quattro volte di più. È un resoconto avvilente quello che ci fa, ma purtroppo ci mette di fronte alla dura realtà. Speriamo che si possa arrivare e riuscire a fare anche un minimo di prevenzione. Ma dobbiamo guardare anche l'altro aspetto, perché trovandoci in Piazza Pietri non potevamo ignorare quello che riguarda l'ex Cinema Pietri. Cosa ci può dire a proposito? Per quanto riguarda il Cinema Pietri, è un'eredità, e questo non vuole essere accusa nei confronti di nessuno, è una realtà che viene da lontano. Proprio stamani mattina è in programma un incontro con la proprietà per cercare di dare una svolta definitiva e quindi riqualificare tutta l'area di Piazza Pietri. Un'ultima domanda, Sindaco, ma doverosa per rispetto della figura di Giuseppe Pietri. Quella statua, se potesse parlare, anzi se potesse gridare, griderebbe vendetta. Avrebbe ragione a gridare vendetta. E quindi è un Elbano a cui va dato il rispetto dovuto e nostra intenzione trasferirlo nelle adiacenze del Teatro dei Vigilanti, ora dedicato a Renato Cioni. Poi vedremo se metterlo all'interno dell'ingresso, se metterlo sulla piazza, gemellarlo con un altro importantissimo personaggio, perché no un busto anche di Renato Cioni. Questo lo valuteremo, ma sicuramente a breve questo trasferimento avverrà. E mi auguro di avere tante critiche, perché più sono consistenti le critiche, migliore è il risultato che andremo a ottenere. Silent night, holy night, Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Christ the Savior is born Christ the Savior is born Buonasera gentili telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale. Questa sera non possiamo non parlare del meteo. Vento e mare Forza 8 hanno fermato i traghetti e l'Elba è rimasta isolata. Le navi quindi nella giornata di oggi sono rimaste ferme in banchina e c'è stato un super lavoro per i vigili del fuoco e la polizia stradale impegnati a rimuovere gli alberi che sono stati abbattuti lungo le strade dell'Elba. L'unico collegamento assicurato con il continente è stato quello di Silver Air che è partito regolarmente per Firenze. Isolani e isolati è così che si sentono gli abitanti dell'isola d'Elba in queste ore una condizione che si ripete fortunatamente non di frequente ogni volta che le condizioni del vento e del mare impediscono la navigazione fra l'isola e Piombino. Il fortissimo vento che espira dal tardo pomeriggio di lunedì 11 gennaio non ha fortunatamente impedito l'arrivo dell'ultima nave da Piombino a Portoferraio ma da questa mattina i traghetti sono tutti fermi a banchina. Come riferisce la sala operativa della Capitaneria di Porto il forte vento da Ovest Forza 8 è rimasto costante per tutto il giorno. I mancati collegamenti hanno limitato l'attività dell'ospedale e della scuola a causa dell'assenza dei pendolari. In ospedale sono saltati gli ambulatori di dermatologia autorino, odonto tecnico e podologo insieme ai relativi appuntamenti con circa 60 pazienti. A scuola sia al Cerboni che al Foresi molti docenti assenti e lezioni a scartamento ridotto. Dalla nottata intanto sono iniziati i disagi provocati dalla caduta di alberi per lo più pini ed eucalipti che hanno invaso la carreggiata della strada in diverse località. Sul piano di Mola intorno alle 23 un albero abbattuto dal vento al chilometro 8 e 700 della strada provinciale 26 è stato rimosso grazie a un intervento della polizia stradale. Dalle 4 del mattino in poi sono iniziate le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti a Capoliveri, Marciana, Procchio, Nisporto, Nisportino e Lacona, sempre per rimuovere alberi dalle sedi stradali. A Porto Azzurri interventi della squadra della protezione civile della misericordia, Barbarossa al Bocchetto sulla strada che porta a Forte San Giacomo e sulla provinciale. Per la cronaca l'unico collegamento con il resto del mondo oggi lo ha assicurato Silver Air con il volo La Pila-Firenze partito regolarmente alle 8 e 20 questa mattina. Oltre al vento record che si è abbattuto sull'isola vediamo anche quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Sembra una settimana di disagi. Intanto la stazione meteo dei Monte Perone ha registrato raffiche fino a 136 km orari. È stato anche scoperchiato l'info point sul porto di Marina di Campo ed è stata chiusa la civillina per caduta di alberi. Si preannuncia comunque un weekend molto freddo infatti arriva il gelo e forse anche la prima neve sull'Elba. I nostri vecchi lo chiamavano vento di Provenza. Le raffiche che da questa notte soffiano dal nord nord-ovest sull'arcipelago toscano hanno già battuto un record quello della velocità delle raffiche il cui picco è stato registrato questa notte dalla stazione meteo del Monte Perone a 136,4 km orari. Il vento purtroppo non ha intenzione di diminuire. Ci sarà un calo intorno alle 12 per poi rinforzare nuovamente per tutta la giornata. I danni purtroppo si moltiplicano. Le notizie che arrivano dall'Elba occidentale parlano di una mareggiata particolarmente intensa sulla costa da Pomonte a Patresi. Il vento ha scoperchiato l'info point sul porto a Marina di Campo. La civillina è chiusa a causa di moltissimi alberi caduti sulla sede stradale. Il meteo non promette oltretutto niente di buono. Sarà una settimana di tempo molto perturbato con l'arrivo da sabato di un calo termico importante. La situazione peggiorerà ulteriormente tanto che lunedì 18 sono ad oggi abbastanza alte le probabilità di vedere la prima neve sull'isola anche a quote basse. La novità più importante arriva dalla protezione civile Elba occidentale. Per la prima volta è stato inviato a tutti i cittadini registrati un messaggio telefonico con il sistema Alert System. Salve, questo è un messaggio registrato a cura dell'intercomunale di protezione civile Elba occidentale che la prego di ascoltare. Dalle ore 12 di lunedì alle ore 20 di martedì è previsto vento forte con violente raffiche e mareggiate. Prestare attenzione alla guida, al transito sui viali alberati e alle possibili cadute di oggetti da tetti e balconi. Si invita a non sostare nei lungomari e nei parcheggi zona mare. Si ringrazia per l'attenzione. Abbiamo avvisato la popolazione del rischio legato al forte vento ci ha spiegato Gian Mario Gentini responsabile del Bano della protezione civile la racchetta rivolgiamo a tutti coloro che non l'avessero ancora fatto l'invito a registrarsi al servizio su internet o di fornire il proprio numero di telefono dove preferiscono ricevere le comunicazioni. Andiamo ora a vedere la situazione del piano di Rio. È stato fissato un vertice con l'Università di Firenze sul rischio voragini nella zona. Intanto il sindaco di Rio Nell'Elba De Santi ha chiesto conto dello stato degli studi gravimetrici e geoelettrici per conoscere la situazione emersa fino ad oggi. E dice poi lo stesso De Santi la conclusione degli studi ci consentirà di poter indicare una ipotesi di nuova viabilità. Il sindaco di Rio Nell'Elba Claudio De Santi torna sul rischio voragini al piano per dare conto ai cittadini di come si sta evolvendo la situazione. Dopo aver informato il sindaco di Rio Marina Renzo Galli ha dichiarato De Santi ho richiesto un incontro con il professor Nicola Casagli del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze che si occupa del monitoraggio della zona del piano monitoraggio che tra l'altro deve essere rinnovato in quanto scaduto il 31 dicembre 2015 e con il professor Riccardo Fanti dell'Università degli Studi di Firenze responsabile degli studi e della mappatura del rischio voragini nella zona del piano per avere notizie sullo stato di avanzamento degli studi gravimetrici e geolettrici e per conoscere le situazioni fino ad oggi emerse. Gli studi dovrebbero essere completati prima dell'inizio dell'estate 2016 solo con la conoscenza del sottosuolo ha spiegato ancora De Santi si potrà dare una sicurezza riguardo alla zona in merito agli accessi alla viabilità stradale e piedonale alle abitazioni alle attività e a tutti gli immobili la conclusione di tali studi ci consentirà di poter indicare una ipotesi di nuova viabilità del piano se come pare dalla riforma delle province progettazione e costruzione delle strade provinciali passano sotto la competenza della regione per non farci cogliere impreparati dai risultati che si evidenzieranno a studi conclusi a Terminato De Santi ritengo sia importante anche la convocazione del tavolo di concertazione con la presenza della regione stessa. Cambiamo versante e ci spostiamo in quello occidentale le scuole del versante occidentale sono state accorpate le scuole di Marciana Marciana Marina per la precisione sono state accorpate con l'istituto comprensivo giusti di campo la fusione è stata decisa da una delibera regionale nonostante le proteste dei sindaci e la mobilitazione dei genitori che avevano fatto di tutto per poter scongiurare questo accorpamento nonostante la mobilitazione di sindaci e genitori la regione toscana ha stabilito l'accorpamento delle scuole di Marciana e Marciana Marina con l'istituto comprensivo giusti di campo nell'Elba in prima linea contro l'accorpamento dal primo momento c'erano i sindaci Anna Bulgaresi di Marciana e Andrea Ciummei di Marciana Marina e si erano mobilitati anche i genitori che avevano partecipato con una delegazione al Consiglio Provinciale a Livorno per far comprendere le difficoltà conseguenti ad una unificazione delle tre scuole mentre i due sindaci avevano incontrato l'assessore Maria Cristina Grieco era chiaro comunque che l'accorpamento amministrativo sarebbe stato attuato la decisione è stata presa sulla base della popolazione scolastica di Marciana che si ferma abbondantemente sotto i 400 iscritti numero previsto per mantenere l'autonomia la conferma dell'accorpamento è arrivata con una delibera regionale di fine dicembre 2015 in cui si definiscono i nuovi assetti delle istituzioni scolastiche per l'anno 2016 e 2017 già pubblicata sul bollettino ufficiale della regione toscana ben ritrovati in studio e come avete sentito prima dai titoli ora parliamo di campo il capogruppo della minoranza Vanno Segnini risponde a Luigi Lanera responsabile di Fratelli d'Italia per quanto riguarda la provincia di Livorno e gli spiega le ragioni della loro assenza in consiglio comunale Vanno Segnini aggiunge anche Lanera non sa neanche di cosa parla ma a bocca all'amo vediamo è arrivata quasi subito la risposta di Vanno Segnini in merito alle accuse avanzate alla minoranza di campo nell'Elba da Luigi Lanera i consiglieri di minoranza hanno volontariamente lasciato l'aula durante il consiglio comunale in cui sarebbe dovuta passare all'unanimità il punto 4 all'ordine del giorno riguardante il potenziamento dell'aeroporto dura la critica di Lanera che ha accusato la minoranza campese di superficialità nell'affrontare problematiche così importanti per l'Elba la minoranza ha scritto in un comunicato Vanno Segnini ha spiegato le motivazioni dell'allontanamento dall'aula consigliare specificando che il gesto non ha niente a che vedere con l'aeroporto di Marina di Campo al cui potenziamento spiega siamo assolutamente favorevoli il consiglio comunale di sabato scorso aveva al punto 2 dell'ordine del giorno la discussione approvazione delle modifiche al regolamento delle aree demaniali dice Segnini il regolamento era già stato portato in approvazione una prima volta in consiglio comunale e non approvato per mancanza del numero legale dovuta oltre all'assenza del nostro gruppo anche dei due consiglieri della maggioranza Spinetti e Danesi successivamente epurati dal sindaco le ragioni della nostra assenza continua il capogruppo di minoranza risiedono nella circostanza che con questo regolamento si trasformano di fatto i punti blu in concessioni demaniali seppur in via sperimentale aggirando la normativa che vieta il rilascio di nuove concessioni in assenza di piano strutturale l'argomento aeroporto era trattato al punto numero 4 dell'ordine del giorno se la maggioranza avesse invertito i due punti non ci sarebbe stato per noi nessun problema a votare il punto concernente l'aereo scalo ma è notizia di oggi la controbattuta di La Nera caro Segnini dice ci interessa l'aeroporto non la vostra strategia siamo stanchi di una classe dirigente che mai è riuscita nel dare all'elba la famosa svolta di cui tanto necessitiamo in pediatria nel reparto di pediatria dell'ospedale di Portoferraio è arrivata una nuova sonda ecografica neonatale è stata donata dal Rotary Club Isola d'Elba e permetterà al reparto una maggiore precisione e affidabilità per quanto riguarda le diagnosi una nuova sonda ecografica neonatale per il reparto pediatrico dell'ospedale di Portoferraio il macchinario è stato donato questa mattina all'ospedale Elbano dal Rotary Club Isola d'Elba il nostro obiettivo è quello di essere presenti sul territorio ha detto Manuela Colombi presidente del Rotary Club per migliorare la vita della comunità questa iniziativa è nata su richiesta anche dell'ospedale di Portoferraio dal dottor Biani e dal dottor Rizzo che anche se non è più qui all'ospedale però è stato un fautore di questa cosa penso che questo macchinario riuscirà a migliorare il lavoro dei medici di questo reparto in quanto potranno formulare delle diagnosi precise che il dottor Biani vi spiegherà senz'altro meglio di me e anche per le madri che potranno affrontare un evento così importante che è la nascita di un figlio con più tranquillità uno strumento spiega il pediatra Duilio Biani che permette di migliorare le prestazioni del reparto pediatrico e cardiologico dell'ospedale serve per fare praticamente le ecocardiografie in età neonatale e ci serviva per ottimizzare le immagini che vengono effettuate sul neonato per formulare come ha detto già la signora Colombi delle diagnosi più precise e più affidabili io lavoro in collaborazione con il dottor Jurato che è il cardiologo del nostro ospedale io e lui ci alterniamo a questo a questo tipo di diagnosi per ottenere ripeto ribadisco delle immagini più efficaci e più indirizzate verso l'età neonatale che non è molto facile ad avere delle immagini senza questa sonda perché noi utilizzavamo prima delle sonde praticamente per bambini più grandi però le immagini non erano così nitide e perfette come con questa sonda uno strumento che potrà servire a coadiuvare gli operatori del settore pediatrico e cardiografico con uno strumento che potrà fare ecografie e quindi sarà utilizzato anche credo per la telemedicina per trasmettere il dato verso l'esterno ad essere immediatamente eletto dalle strutture in continente è sicuramente un valore aggiunto per cui noi facciamo i complimenti a Rotary Club ringraziamo il presidente Emanuela Colombi e approfittiamo anche per ringraziare in particolare i dottori che sono impegnati in questo reparto perché tra gli altri è uno dei fiori all'occhiello della struttura sanitaria urbana come vi avevamo detto parliamo della lotteria della Croce Verde la lotteria di Natale i cui biglietti vincenti sono stati estratti sabato scorso e la Fiat Punto il primo premio in palio ha preso il traghetto infatti il biglietto vincente è stato acquistato da un veronese che è amante dell'elba e che si trovava proprio sulla nostra isola durante le vacanze di Natale aveva pensato inizialmente ad uno scherzo Luigi Posenato residente a Verona quando ha ricevuto una telefonata da un amico elbano a cui aveva lasciato in custodia il biglietto della lotteria di Natale della Croce Verde il biglietto era stato acquistato da Posenato che è un appassionato frequentatore della nostra isola durante le vacanze di Natale nel corso delle quali aveva trascorso qualche giorno a Portoferraio lasciando l'isola aveva lasciato il biglietto ad un amico con una raccomandazione se vincessi qualcosa chiamami il biglietto guarda caso era proprio il numero 2270 al quale era abbinata la Fiat Punto 5 Porte messa in palio come ogni anno dalla pubblica assistenza Croce Verde di Portoferraio dopo l'iniziale sorpresa Luigi Posenato ha incaricato l'amico di reclamare il premio il biglietto infatti è stato regolarmente consegnato nella mattinata di lunedì 11 gennaio nelle mani di Paolo Magagnini presidente della pubblica assistenza Croce Verde che ha già riscontrato la regolarità della vincita nei prossimi giorni il fortunato vincitore non appena saranno espletate le formalità di rito deciderà le modalità di ritiro del premio vediamo raccomandato lo spettacolo di domenica sera al teatro dei vigilanti applausi e sold out per Nuzzo e Di Biase la divertente commedia della coppia di attori ha inaugurato al meglio il 2016 del teatro di Portoferraio intanto il 19 gennaio arriva Corrado Abbati con il musical My Fair Lady sold out al teatro dei vigilanti per Nuzzo e Di Biase la coppia di comici arrivata all'elba con lo spettacolo Gli Impiegati dell'Amore una divertente commedia del francese David Fonquinot magistralmente interpretata dai due attori noti al grande pubblico per le loro partecipazioni in tv a Zelig e quelli che il calcio la stagione teatrale ha inaugurato quindi il nuovo anno con una commedia romantica e spregiudicata dove i destini dei protagonisti Michele e Silvia si incrociano in un'agenzia matrimoniale dove i due vanno non per cercare l'anima gemella ma per svolgere il loro onesto lavoro di impiegati quando per colpa di internet più nessuno cerca le loro consulenze amorose Michele e Silvia iniziano un viaggio introspettivo che li porta ad affrontare vari aspetti della vita di coppia il tutto scandito dalle loro simpatiche battute e gag grande successo per la consolidata coppia d'attori quindi come testimoniano anche i ripetuti applausi del pubblico in sala dopo Nuzzo e Di Biase il prossimo appuntamento della stagione teatrale è fissato per il 19 gennaio quando sul palco dei vigilanti salirà la compagnia di Corrado Abbati con il musical My Fair Lady è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ringraziamo per averci seguito e a tutti una buona serata per averci seguito